o mai si parte contro gli arabi di faccio il mamma vinto un culo di domanda connessione di morti chi da morto e chi riuscì facciamo alla e merda e che la facciamo bucchino e io che babbo fu tu solo cazzo ma molti devono che babbo un culo ma facendo una doccia che ha affettito come a merda sito sporco si si tenete sporca non si tenete perché si tenete si tenete perché sito sporca sti arabe merda non faccio tc foto giuro fra che lei è una razzica caister mi ha soffrato giuro fra io un razzismo verso gli arabi e tutti quei popoli ladis facciamo che te lo giuro io uccido